Buongiorno a tutti, innanzitutto un ringraziamento al Presidente, alla Vicepresidente, al Dottor Monachesi per l'invito. Una premessa, io sono un medico, un chirurgo pediatra e un pediatra e ho lavorato in strutture pubbliche e in strutture private, sia come chirurgo, poi come dirigente all'Agenas. Sono stata per 13 anni direttore sanitario aziendale del Policlinico Tor Vergata e direttore generale della ASRA di Frosinone. Attualmente collaboro con l'Agenzia Nazionale sui temi dell'assistenza primaria e alla LUIS come docente di organizzazione sanitaria. Ho avuto modo quindi di lavorare sul fronte, perché quando fare direttore sanitario aziendale di una struttura Torbella Monaca, seconda dopo Scampia, significa stare al fronte. E quindi lavorando al fronte, contemporaneamente non ho mai lasciato il mondo delle forme integrative di assistenza. Chi vi parla ha scritto la maggior parte dei documenti che oggi regolano questo settore. Ma non mi sono mai sentita antagonista di me stessa, mentre crescevano i fondi integrativi parimenti ai problemi del Servizio Sanitario Nazionale. Come vedete ho scritto socio-sanitario, perché quando nel 2008, rispetto alla normativa sulla quale vi farò viaggiare, si decise di scrivere questa parola socio-sanitario, di introdurre le prestazioni socio-sanitarie nei fondi, nelle società di mutuo soccorso e quant'altro mai, si aveva ben preciso il futuro del nostro Paese, l'invecchiamento e la possibilità che le prestazioni non fossero solo sanitarie, ma anche di tipo sociale. Perché nel nostro Paese, ahimè, parlare di sanità senza parlare anche della spesa sociale, quando si parla di malattie rare, quando si parla di non autosufficienza, quando si parla di cronicità, è praticamente un errore impossibile. E allora abbiamo introdotto questo concetto di socio-sanitario. Spesso e volentieri in giro si sente dire che il mondo del secondo pilastro è ancora, non ce lo abbiamo un secondo pilastro, perché mancano le basi giuridiche e normative che veramente lo indirizzino verso un secondo pilastro, a differenza di quello che sta avvenendo nel resto dei Paesi europei. Ebbene, nonostante questo secondo pilastro si debba costituire, io vi debbo dire che le ragioni di una scelta sono da ricercare, non nell'antagonismo tra il Servizio Sanitario Nazionale e il finanziamento privato. Quello che vorrei percorrere con voi è una premessa che sembra quasi una conclusione, ma in effetti il mio discorso è un discorso di tipo conclusivo. Costruire un secondo pilastro non significa essere antagonisti rispetto al Servizio Sanitario Nazionale, assolutamente. Significa responsabilizzare i cittadini, non solo i lavoratori, perché oggi parliamo dei lavoratori, ma esiste una grande ingiustizia tra coloro che hanno i contratti collettivi nazionali del lavoro e colori che non li hanno e non possono aderire ad un fondo come può essere ad esempio ASIM, a meno che un giorno qualcuno non scriva che ASIM si possa aprire, anche a coloro che non sono iscritti al contratto collettivo nazionale di lavoro. Responsabilizzando quindi i cittadini, i lavoratori che vi aderiscono, perché quando parliamo di appropriatezza, la parliamo anche nel mondo del privato, del finanziamento privato, e allora quando parliamo di prevenzione rispettiamo le regole che siano pacchetti di prevenzione che rispondono a linee guida internazionali o nazionali per evitare di ripetere esami che magari sono assolutamente inutili. Favorendo la condivisione dell'integrazione, contrastando quella che io ho chiamato qui elusione fiscale. La spesa privata vale oggi 35 miliardi di euro, quella nota, bisognerebbe aggiungere qualche cosa che non sappiamo di quella non nota. E aumentando anche l'occupazione, ebbene sì. Perché quando anziché il denaro liquido si danno servizi, si crea lavoro. Cioè voi siete, ASIM è generatore di lavoro per altre figure professionali, per altre figure professionali. E questo è un aspetto estremamente importante. Io credo che la parola integrazione, vedete, non significa erogo ciò che il Servizio Sanitario Nazionale non mi dà. Integrativo ha un altro significato, a mio avviso. Significa costruire dei percorsi sanitari e sociosanitari, all'interno dei quali, proprio lungo il percorso, in alcuni casi entra il finanziamento pubblico, attraverso la tassazione generale del Servizio Sanitario Nazionale, in altri casi arriva il finanziamento privato raccolto dai fondi. E ciò significa che l'elenco di coloro che fanno quei meravigliosi pacchetti che in maniera davvero capace voi avete costruito, non li dovrebbero ripetere più nel Servizio Sanitario Nazionale, perché glieli avete garantiti voi. L'integrazione e la condivisione dei percorsi per evitare gli sprechi. E i fondi sono sostitutivi, erogano le stesse prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Integrativi, erogano le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale non eroga nell'accezione che non è quella che vi ho appena detto, vedi l'odontoiatria. Complementari, perché erogano quelle prestazioni come i ticket o per esempio le quote di residenzialità che non sono passate né dal sistema sociale né dal sistema sanitario. Io ho voluto rileggere la Carta Costituzionale per coloro che dicono i fondi integrativi vogliono distruggere il Servizio Sanitario Nazionale. E allora sono ricorsa ai miei padri, a quelli che hanno costruito la Carta Costituzionale. L'articolo 32 citano tutti, ma in realtà la Carta Costituzionale quando noi la leggiamo non dovremmo leggere un solo articolo, dovremmo leggere più articoli che di quel tema parlano. E allora se prendiamo l'articolo 32 che è stato scritto da un pediatra siciliano e da un gruppo di persone che sono arrivati all'ultimo a consegnarlo ai padri quando hanno scritto la Costituzione, c'è scritto che la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale. Innanzitutto non è diritto alla salute, cominciamo a capirci, è diritto alla tutela della salute. E questo articolo è stato scritto prima che venisse fuori il Servizio Sanitario Nazionale, ben 30 anni dopo. È stato scritto dai nostri padri dicendo una cosa fondamentale, che è un diritto la tutela, ma che le cure sono garantite soltanto agli indigenti. E gli indigenti allora erano addirittura quelli che stavano ben al di sotto di quella che oggi è la soglia di povertà di 4 milioni di persone nel nostro Paese. Erano già consapevoli del fatto che probabilmente non avremmo avuto risorse sufficienti. Tanto è vero che sarà solo con la legge 833 del 1978 che la spesa privata viene in un qualche modo legittimata. E lo Stato dice la mutualità, non intesa come società di mutuo soccorso, perché è mutualità anche quella che fate voi. È solidarietà all'interno di un gruppo di lavoratori. La mutualità è libera. Se prendiamo l'articolo invece 38 della Costituzione, per la parte sociale, è ugualmente nel dire quali sono i diritti, questa volta già subito in Costituzione si legittima la spesa privata e si dice l'assistenza privata è libera. Quindi i fondi, le società di mutuo soccorso, le casse di cui riporto la definizione che con i professor Guzzanti nel 99 facemmo, vedete, eccola qua, in realtà sono più che legittime ed è più che legittimo la loro operare a sostegno e a supporto del Servizio Sanitario Nazionale e del Sistema di Protezione Sociale, che è quello che sta subendo i tagli più gravi e più importanti nel nostro Paese. Quindi varie formule, come diceva giustamente prima anche chi mi ha preceduto, casse, fondi, società di mutuo soccorso, anche se fiscalmente poi hanno delle caratteristiche diverse. Non vi annoio sulla normativa, ve l'ho già detto, io vi lascerò queste diapositive per chi vorrà naturalmente approfondire. Sta di fatto che dalla mutualità e libera dell'833 arriviamo fino all'welfare aziendale, passando attraverso quei due decreti del 2008 e del 2010, voluti da due ministri di idee completamente diverse, Livia Turco e Sacconi, sinistra e destra, che invece legittimarono di fatto i fondi sociosanitari e praticamente dissero che non debbono essere solo integrativi. Noi mettemmo una cosa ben chiara, dicemmo che per avere quei 3.615,20 centesimi di vantaggio fiscale, di agevolazione fiscale, si sarebbero dovuti orientare almeno per il 20% delle loro risorse verso il sociosanitario e verso l'odontoiadria. La caratteristica perché non sono le mutue che precedevano il Servizio Sanitario Nazionale? Ma non lo sono perché quello era un meccanismo di tipo bismarchiano, cioè tedesco. Noi all'inizio non siamo nati come Servizio Sanitario Nazionale, noi siamo nati come la stragrande maggioranza dei sistemi europei, che erano sostanzialmente dei sistemi di tipo assicurativo obbligatorio. Quelle mutue di un tempo non hanno nulla a che vedere con le società di mutuo soccorso, con l'ASIM di oggi, perché una delle caratteristiche più importanti è proprio questa, quella di non discriminare nei confronti di particolari gruppi di soggetti. E questo direi che è l'aspetto solidaristico più importante, fondamentale del mondo dei fondi integrativi. Nel 98 ci provai, ne trovai un milione e mezzo. A chi dice che questo mondo non c'è oggi siamo circa 11 milioni, poco più e poco meno. E si governano all'incirca 5-6 miliardi di quei 35 miliardi di spesa privata, cosiddetta out of pocket. Qui se volete, non mi soffermo, potete leggere quanti sono secondo l'anagrafe dei fondi al Ministero, i fondi attualmente esistenti o le società di mutuo soccorso. Quante, il maggior parte, il 60%, si rivolge a compagnie di assicurazione per la gestione dei pacchetti di prestazioni, potete sbizzarrirvi. La cosa importante, eccolo qua, siete sostitutivi, integrativi, complementari, come lo sono peraltro la maggior parte dei fondi in Europa. A titolo di informazione, in Europa ci sono 180 milioni di cittadini che già aderiscono, vuoi a società di mutuo soccorso, vuoi a forme integrative di assistenza, diverse magari da quella che può essere Asim. In Francia, dal primo gennaio del 2016, il ministro, l'ex ormai ministro, Turenne, una donna, ha reso obbligatorio per tutti i lavoratori l'adesione a forme integrative di assistenza di tipo aziendale. La strada che stiamo percorrendo è la stessa, pur con le differenze che vi ho detto. Voi avete la fortuna di appartenere ai lavoratori di un contratto collettivo nazionale di lavoro, già un cittadino che non è un lavoratore di un contratto collettivo nazionale di lavoro ha delle difficoltà, ma io immagino che nel futuro si possa pensare a fondi aperti e, ripeto, un fondo così ben organizzato, perché no? Il tutto nell'ottica del welfare aziendale. Il welfare aziendale ha un costo per lo Stato. Il fatto di non mettere in busta paga ad un determinato valore X di percentuale di tasse dei soldi, ma trasformarli in servizi è un atto ben preciso, una volontà politica ben chiara di welfare contrattuale. A me la parola welfare contrattuale non piace e sempre di più mi rendo conto, ascoltando i fondi, ascoltando quello che voi oggi avete presentato, di cui siete giustamente orgogliosi e per chi se ne occupa da più di vent'anni, credetemi, complimenti, preferisco parlare di responsabilità sociale e di impresa. Mi piace di più. Responsabilità sociale intendendo con questo che ci si mette insieme perché ci si rende conto che quegli aspetti sociali dei quali lo Stato con difficoltà si sta facendo carico diventano anche la responsabilità di noi cittadini a dare una mano. detto questo io do un quadro ben chiaro del mio Paese, molto chiaro, senza mezzi termini e senza nascondermi. Questa è la nostra situazione. Noi abbiamo avuto un calo del PIL del 10% durante la guerra, subito dopo ora del 7,5%. Abbiamo avuto una produzione industriale che è arretrata, non è un caso quello che vi ha presentato poco fa, chi mi ha preceduto sulla situazione difficile grave delle imprese anche nel vostro settore. Della disoccupazione, del potere d'acquisto che è diminuito, della povertà assoluta che è aumentata del 141%. Non lo so, mi dà più l'idea di un'economia di guerra, detta francamente e senza mezzi termini e senza per paura di essere contraddetta. Che poi siamo indietro rispetto al mondo. Lo so, dice, ci illustra adesso il mondo, ci fa vedere dove siamo. No, vi faccio vedere dove andate. Mi permetto di farvi vedere dove siete destinati ad andare. Siamo il Paese che ha la spesa sanitaria più bassa. E nonostante l'abbiamo più bassa, ricordatevi che in questo momento il DEF per il prossimo anno, e non vi illudete che chi va dal potere, chiunque egli o esso o essa, essi non lo so, siano, non potranno azzardarsi a cambiare quel valore. Noi siamo al 6,5% del PIL. Non aumenteranno quel valore per il Servizio Sanitario Nazionale. Non lo faranno, non lo potranno fare. Un esempio banalissimo. Tenetevi forti alle sedie. La differenza tra noi e la Germania in termini assoluti che io odio le percentuali. Noi abbiamo a disposizione 140 miliardi di euro. La Germania 298 miliardi di euro. La Francia 231 miliardi di euro per la sanità. Ne vogliamo parlare? La realtà vera è che sul loro PIL questi soldi valgono molto di più. Una cosa è il 7% di 1.000, una cosa è il 7% di 2.000, una cosa è il 7% di 3.000. Ed eccolo là che a 7% ci siamo tutti vicini. Peccato che noi sono 140 e loro 298. E quindi una cifra ben superiore a testa. Sono più ricchi? Punto. La spesa sanitaria la leggete qua. Non solo è di 113 miliardi. Ci hanno recentemente tolto pure 422 milioni. L'ultimo DEF ha detto che più di quello non andiamo. E all'interno di questa stessa cifra ci dovrebbero essere i nuovi LEA. Non avete affrontato questo tema ma i nuovi livelli essenziali di assistenza introducono delle prestazioni che ahimè vi dirò adesso ancora il Servizio Sanitario Nazionale pur avendole annunciate non le può erogare. Questo è il gap tra spesa pubblica e spesa privata e PIL. L'unica che è cresciuta. L'unica perché? Perché la spesa privata è cresciuta? Perché laddove si spende quel poco privatamente, laddove sociale, laddove necessità, l'italiano giustamente spende perché è veramente il settore che è il più importante in termini assoluti. Questa è la nostra spesa privata. Non vi annoio oggi di 35 miliardi di euro. Solo poche cose. Dov'è che spendono gli italiani? Le solite cose. visite specialistiche, indagini di laboratorio, radiologia, odontoiatria e udite udite 13 miliardi di farmaci. 13 miliardi sono i farmaci nel privato, 17 miliardi sono i farmaci spesi dal servizio sanitario nazionale, un mercato del valore di 30 miliardi di euro, di cui 13 a carico di noi cittadini. Quanti di noi vanno dalla farmacia, prendono un farmaco e dicono per l'amor di Dio sono andato al medico, fa la ricetta, fa la cosa, fa quello, fa quell'altro e magari commettiamo anche l'errore dell'automedicazione. Campi da esplorare. Campi da esplorare per Asim. Con le differenze. Io sono una maniaca del sud, io sono convi maniaca, maniaca nel senso che ce lo stiamo perdendo dal punto di vista della sanità. E ahimè che cosa succede? Vede Monachesi, lei poco fa ha detto puntiamo sulla Lombardia, l'Emilia Romagna, la Toscana, sto avvelenata. Perché sono avvelenata? Perché ah, ci hanno più soldi per la parte della componente pubblica? Con lo vecchio discorso degli anziani ce ne ho di più, io ho preso un po' più dei soldini nel pubblico. Sono più ricchi, la spesa privata più alta d'Italia dov'è? Chi è che me lo sa dire? Qual è la regione che ha la spesa privata sanitaria più alta del paese? No, l'Emilia Romagna. L'Emilia Romagna è in testa, primo posto assoluta con la spesa privata sanitaria più alta d'Italia. Se quella si riversasse sulle loro liste d'attesa sono più ricchi e dove c'è più ricchezza c'è più spesa privata. Seppure gli diamo i fondi integrativi e sorrighi delle volte. Eccola. Vedete? Anche come è organizzata la spesa privata. Vedete come i fondi integrativi sono più diffusi al nord? Voi mi direte che ci sono più industrie. Sì, voi siete un esempio invece di diffusione parcellare. Siete un esempio invece di un fondo che ha, a mio modestissimo avviso, una componente sociale di spinta verso il sud che dovrebbe essere maggiore. Posso capire la grande industria ma sicuramente nel caso vostro infatti al terzo posto ci avete, se non vado errata e non ricordo, la campagna. Quindi per dire come poi non tutti i fondi, non tutte le situazioni sono uguali. Tutti dicono che servizio sanitario nazionale, che io adoro, che penso sia una perla, che dobbiamo assolutamente conservare e soprattutto supportare. Dicono che abbiamo un servizio sanitario nazionale, abbiamo pochi soldi, siamo stati bravissimi, gli italiani come vedete campano di più. Primo, non è sempre vero che campano meglio, visto e considerato che abbiamo qualche problema. Non è vero che non siamo arrabbiati perché se ci chiedono la soddisfazione andiamo a finire al ventiduesimo posto su 32. Non è vero che l'aspettativa di vita è alta, sì, ma se poi negli ultimi anni sto molto male è chiaro che è un'aspettativa di vita con dei problemi. Se poi pensiamo al sud, ricordo a voi tutti quello che qualche giorno fuori è uscito da Osserva Salute, e cioè che al sud i nostri cittadini hanno perso in aspettativa di vita e sono tornati al tempo del dopoguerra. E questo è un problema decisamente molto serio. Giusto? Perfetto. Tra l'altro noi siamo un paese che di spending review, chi ha parlato prima mi perdoni, lei ha parlato giustamente di spending review. Talmente spending review, dice ma com'è che si vede che sei ricca a Germania? Beh, non solo ho 298 miliardi di euro, ma ho anche 800 posti letto per mille abitanti, faccio come mi pare, ce ne ho una marea. L'Italia 300 perché ogni giorno ci fanno quel posto letto inappropriato, lo chiudiamo, è inappropriato, lo chiudiamo. Loro a 800 e noi ovviamente disperatamente a 300 per abbattere i costi. E questo naturalmente con i problemi perché a forza di abbattere posti letto siamo all'ultimo posto in Europa. Vi faccio, guardate, giocare con i dati, tra virgolette, bisogna anche un po' saperlo fare. E quando però si gioca con i dati e si mettono insieme le cose, ti sorprendi, no? Dici ma la Svezia ha un servizio sanitario nazionale? Sì. Basato sulla fiscalità generale? Sì. Quanti abitanti sono in Svezia? 9 milioni 900 mila. Buono. Qual è la regione italiana che più si avvicina alla Svezia? No, noi siamo 60 milioni, non ci possiamo paragatti. Qual è la regione che si avvicina di più alla Svezia? Bravissimo. La Lombardia con 10 milioni. Bene. È mai possibile che noi in Itiale viaggiamo a 17 posti letto per i non autosufficienti che stanno tutti al pronto soccorso in Barella e poi nei reparti di medicina e la Svezia abbia 81,7 posti letto per loro? Con i pronto soccorsi vuoti. Beh, grazie. Ci hanno i posti letto per assisterli. Per non parlare di ticket, attenzione ai ticket perché se per caso sono diminuiti, perché sono diminuiti i ticket è sostanzialmente perché i cittadini, giustamente, dato che il costo della prestazione è uguale a quella del ticket, ovviamente vanno direttamente senza bisogno poi della prestazione e della chiusura del medico, ci potrebbe essere un aumento di coloro i quali si rivolgono. La transizione democratica l'abbiamo detta. Non vi voglio dire quanto spendono per la non autosufficienza questi paesi. La Germania spende per 81 milioni di abitanti 75 miliardi, la Francia per 64 milioni 55, fidatevi l'Italia 30, quindi c'è qualcosa che non va. Anche nel campo del sociale spendiamo poco. Perché? Perché siamo l'unico paese in Europa che ancora si trastulla e ancora non riesce a superare ideologicamente il concetto del trasferimento in denaro. Noi anziché dare servizi, cosa che state facendo voi, voi state tramutando il risparmio contrattuale in servizi, lo Stato ancora, ahimè, dà l'indennità di accompagno. A quanto ammonta per i nostri 3 milioni e 200 mila non autosufficienti, questa indennità di accompagno più legge 104, 17 miliardi di euro. Noi diamo 550 euro al mese alle persone, ma non diamo servizi. Verrebbe spontanea una domanda. ma se noi prendessimo una cifra anche piccola di quei 550 euro. Se dicessimo per esempio ad Asim... Certo. Beh, il futuro, no? Voi mi avete chiesto, ci dà... Poi, quello che dico, quando vent'anni fa feci la prima indagine scrissi alcune di queste cose, che poi sono maturate con la contribuzione di tante altre persone, dicevano che ero matta. Poi dopo si sono invece verificati. Adesso, fatemi dire ancora è matta, però magari è capace che fra dieci anni, no? O fra vent'anni, quello che dico diventa realtà. E allora, anziché dare 550 euro, si daranno ad alcune persone che hanno diritto all'accompagno, che sono stati in Asim per tanto tempo, 450, chiedendo ad Asim di trasformare una parte di quei contributi in servizi, visto che già li conosce, visto che li ha avuti in carico, visto che così, in maniera continuativa, continua a dare loro delle possibilità. E questo perché la spending review, poi ve lo leggete se volete, è tale per la quale non solo siamo ultimi in Europa sul campo della sanità, siamo ultimi in Europa anche nel sociale, con una spesa pro capite sociale italiana che è sostanzialmente di 430 euro, la Germania naso porto più 742, la Francia 595, noi siamo a pari merito, la Svezia 1220, poi dice, hanno una contribuzione fiscale al 60%, te credo, però con il 60% se permettete ciò, 80,1 posti letto per cui esco da casa con papà, come te senti male, benissimo che c'è il posto letto, con il bambino esco di casa, dov'è che te devo lasciare? Ecco, ho 13 Asim di Unito, devo scegliere qual è più vicino a casa, per forza, naturalmente questo comporta ovviamente delle scelte che noi italiani siamo capaci di fare, quindi è inutile che ci stiamo a girare intorno perché è veramente inutile. I nuovi LEA, pensateci, dategli una lettura, i nuovi LEA hanno le nuove vaccinazioni, i nuovi LEA comportano nuove patologie croniche, patologie rare, ho visto neonato, quindi mi piacerebbe questo discorso, vado a chiudere, lo so, state guardando, faccio prestissimo, però pensavo fosse comunque, no, quest'idea un po' futuristica interessante per voi tutti, ecco, diamo un'occhiata a queste nuove prestazioni perché potrebbero essere lo spunto, no, per introdurle. Perché? Perché questo Paese è mitico, resisto ancora, resisto, è mitico, perché mi fa il nuovo nomenclatore con tutte le nuove prestazioni che debbono entrare e non mi fa il tariffario. E mi dici, il tariffario è demandato a successivi incontri con la conferenza Stato-Regioni al fine di stabilire la tariffa massima sulla quale si ammazzeranno tutte le regioni, no, sulla tariffa massima, no, più basso, più alta, più basso, più basso. E neanche per le nuove protesi. Le patologie rare, sì, saranno introdotte entro 180 giorni per dare tempo alle regioni di costruire le reti in modo tale che questi pazienti, una volta entrati nella rete, sanno dove andare. Ci sono regioni che ancora devono pensare alle patologie rare, quelle di prima, figuriamoci a quelle nuove. Quindi c'è qualche problema, no? Più di annuncio che poi in non di pratica, mentre voi la pratica la fate tutti i giorni. Io credo che andremo a finire a stabilire le priorità, eh? Stabiliremo delle priorità, per forza, e il fabbisogno sarà su base solidale. E se questo è vero, eccolo, la prevenzione neanche ci torno sopra, perché l'avete magnificamente rappresentata, scrivendo esattamente quello che a mio avviso i fondi sanitari integrativi devono fare, punto. Quindi non ci torno proprio sopra, lei ne ha già parlato. Quella è la strada, purché siano pacchetti uguali fra tutti, no? Non magari visite specialistiche a go-go cardiologiche, quando non serve, ne serve una ogni due anni. Quindi non sprechiamo neanche i pochi soldi contrattuali che andiamo a risparmiare. Quindi questo è un importante dovere e funzione dei compiti. Sulle proposte, e vado a chiudere, io credo che la specialistica, soprattutto la specialistica ambulatoriale, sia un volano. La mia idea va sempre a quelle prestazioni sociosanitarie, va sempre a quella possibilità di estendere a quelli che poi nel fondo non ci saranno più, che saranno quelli che avranno il maggiore bisogno di cure. Quindi ci penso sempre a questa possibilità. Spenso anche alla sperimentazione e alla collaborazione. Un fondo così dovrebbe collaborare col Servizio Sanitario Nazionale. Perché a questi convegni, a queste riunioni, a queste cose, non ci sono anche i direttori generali delle ASLE, i direttori dei distretti delle assistenze primarie? Perché non c'è questo pubblico che un po' si arrocca pensando quando invece io, quando ero a Frosinone, non ho avuto la possibilità, ma mi si già luccicavano gli occhietti perché dico con tutte queste industrie che c'ho nel Frosinale, ma becco tutti quanti quelli che hanno i fondi, ma me li organizzo, ma vedo quello che fanno loro, ora vedo quello che faccio io, chissà che qualche lista d'attesa non riesca ad abbatterla solo ed unicamente parlando con l'altra parte. L'informazione, le forme di controllo sulla qualità, ne avete già parlato, quindi di fatto state fisicamente facendo quello che in termini di proposte sono qua. L'informazione corretta, la promozione, garantire conoscenza, trasparenza, sviluppare forme di controllo sulla qualità delle prestazioni erogate, individuare il collegamento tra i due grandi mondi della sanità e della previdenza, perché una vera LTC poi sta soltanto dove sta il fondo previdenziale, perché è un accumulo di soldini per il futuro. Interventi soprattutto correttivi per le aree meridionali del Paese. C'è qui, ma non lo cito, un presidente di un fondo che mi ha dato l'autorizzazione a far vedere questa diapositiva. Esiste una differenza che temo ci sia anche nella vostra realtà tra nord, centro e sud. Insisto, insisto sul discorso dell'utilizzo, eppure non ci sono in questo caso barriere. E allora che cosa c'è? Perché il sud a parità di numero di iscritti, a parità tra virgolette di rete, non accede a quelle prestazioni? E quando vai a vedere i dati ISTAT e trovi prevenzione della mammella, barra prevenzione dei tumori del testicolo, barra PSA e prostata, tu vedi una popolazione che si ritira. C'è anche un problema culturale di fondo sul quale dovete assolutamente, vi prego, lavorare. Come stiamo lavorando non è solo una questa realtà, ma tante altre realtà. Qui tutto naturalmente è concentrato in questi punti e forse l'unica cosa che mi vale la pena è l'ultimo dei punti, quello della formazione e dell'aggiornamento di tutti coloro che all'interno dei fondi hanno la responsabilità di governare la domanda dei propri iscritti. Il che significa non solo il Presidente, il Vicepresidente, Monachesi e chi altro, ma significa tutti coloro che sono coinvolti, che poi sono a contatto con i lavoratori, che devono conoscere bene, non solo il proprio fondo, ma devono conoscere bene anche quello che accade nel Servizio Sanitario Nazionale, pronti a cogliere il giorno in cui, speriamo presto, qualcuno dall'altra parte dica, sentite un po', ci sediamo a un tavolo, ne vogliamo parlare come integrare noi e voi in un Paese diventato finalmente moderno. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Grazie 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 a tutti